e al quale dobbiamo obbligatoriamente chiedere per prima cosa cosa è cambiato in questo Parma che da meno 8 è arrivato a meno 3 della vita. Ha cambiato che abbiamo fatto dei risultati importanti, però detto questo siamo migliorati in molti aspetti, c'è molta più organizzazione, siamo più quadrati e quindi questo ci ha portato a essere più aggressivi in campo e a fare risultati. È un Parma che sta studiando molto gli avversari ed ha la capacità di adattarsi forse di più agli avversari, è questa la vera novità che ha portato ad avversi. È un allenatore che prepara molto bene la partita, cura tutti i dettagli, quindi andiamo in campo organizzati e con le idee chiare di cosa dobbiamo fare. Anche per lei c'è stato un miglioramento importante di rendimento e di continuità rispetto ad un inizio più difficoltoso? Ho avuto delle difficoltà iniziali, ma come ho sempre detto, ho avuto il fatto di non aver fatto una preparazione adeguata. Adesso giocando ho trovato una buona condizione e con l'aiuto dei compagni e anche del nuovo mister sono riuscito a trovare un rendimento buono ed è sempre da migliorare. Dott. Michele, sono un po' quelle banalità che si dicono spesso nel mondo del calcio, ma la gara di venerdì con il Lumezzane non solo quanto importante è, ma quanto importante sarà dimostrare che sì, le due vittorie sono state importanti, ma non si è ancora fatto nulla. Ci sono ancora tante partite, adesso abbiamo una partita importante dove dobbiamo dare continuità, non ci dobbiamo accontentare di quello che abbiamo fatto, quindi sarà dura perché incontriamo una squadra quadrata che concede poco, quindi dovremo essere bravi e attenti a sfruttare qualsiasi occasione che ci lasceranno. Intanto se non ho capito male, sulla base di una domanda che avevo fatto ad Aversa una settimana fa, una vittoria vi farebbe forse anche guadagnare, non so, se un giorno o due in più di vacanza può essere. Sì, su quello dipende dal risultato, però non stiamo a guardare se è un giorno in più di vacanza, dobbiamo pensare a raccogliere tre punti che sono più importanti che un giorno di riposo. Ecco, il Parma sembrava quasi all'interno di un tunnel da cui non riusciva ad uscire, soprattutto dal punto di vista mentale, psicologico e della fiducia nei propri mezzi. Ora sembra che il Parma ci sia uscito, sembra quasi che ci stiano entrando le altre. Penso alla Reggiana, penso al Venezia che comunque ha alcuni problemi, penso al Pordenone. Insomma è un po' una ruota che gira in questo campionato che sembra voler aspettare il Parma fino alla fine. Ma per le esperienze che ho, durante la stagione si possono avere questi momenti di difficoltà. Bisogna essere bravi a continuare a lavorare che prima o poi il momento negativo passa. In questo campionato, come hai detto tu, tante squadre hanno delle difficoltà, quindi noi dobbiamo pensare a noi stessi, a lavorare e a raccogliere più punti possibili. Adesso siamo lì vicini e dobbiamo cercare di rosecchiare o mantenere questo distacco prima della sosta. E quel fatto di essere a meno tre ve lo sareste aspettati oppure è stata un po' una sorpresa anche per voi? No, è una sorpresa perché eravamo a nove punti e in due partite ci siamo avvicinati. Quindi un po' inaspettato però, come ho detto prima, dobbiamo guardare noi prima di tutto, cercare di migliorare, fare più punti possibili e arrivare nella parte del campionato importante lì vicino, il più possibile o davanti. L'ultima parte mia, di questo Lumezzane, che immagino lo studierete anche ora con il consueto video, cosa c'è da temere di questa squadra? Gioca in casa, è una squadra quadrata che ci concede poco, se non sbaglio è la migliore difesa, quindi sarà dura. Come ho detto prima, è un campionato dove tutte possono fare risultati, quindi la prepareremo come abbiamo fatto nell'ultima settimana, curando tutti i dettagli e mantenendo l'atteggiamento che abbiamo avuto. Sembra, l'ultima anche da parte mia, sembra che comunque la difesa a tre, quando perlomeno ci sono tutti o quasi i giocatori in organico, sia il caposaldo di questa squadra. 3-4-3, 3-5-2 nella variazione dell'ultima partita. Sì, ma col mister D'Aversa abbiamo provato difesa 4, difesa 3, l'importante è l'atteggiamento, come dice sempre lui, non è il modulo che fa la differenza all'atteggiamento, e con l'atteggiamento giusto puoi fare qualsiasi modulo. Però il Palma ha migliorato molto, perché prima, giustamente, il Lumezzane ha la miglior difesa, il Palma nell'ultima gara ha segnato molto. Sì, perché si è più compatti, stando vicini tra i reparti, si difende meglio e si attacca meglio. Questo lo dimostrano grandi squadre anche in Serie A, la Juve, quando difendono sono tutti dietro la linea a palla, e quando attaccano, attaccano in tanti. Quindi più si è corti, più si possono fare meglio le due fasi.